Ciao a tutti ragazzi, sono vero annovalto, ma allora Allora Apro Ivi Lucente Ok Apro Ivi Lucente Raga Parlo ragazzi Parlo Ovviamente piano Perché Parlo piano raga Perché Se no Faccio un bordello Io adesso Ragazzi Sono Wow Ragazzi Che bello questo Ragazzi io sono trattenuta E' molto trattenuta Di non urlare Perché è l'una Sono quasi le due Questo qui E questo qui Sto cercando di togliere anche un po' più di materiale Perché Questa è veramente molto ingombrante Sinceramente Questa è ingombrante Che bella Questa non lo so se ce l'ho Non lo so Ma io l'avevo già aperto Magari Uno Non me lo ricordo bene Io mi ricordo che questa spilla L'ho già fatta vedere In un video Ho fatto vedere le spille Quindi ce l'avrò Aspetta Ce l'ho Ma non importa Non importa Perché Non è importanza Dobbiamo Comunque fare un compadito Di contenuti Tutti Ma so qui tanto Sto ascoltando Un pacchetto Di pokemon go Sono carte Vecchie Diciamo Perché Adesso c'è La nuova Spansione No Scarlatto Che Quello Che io ho già fatto Un video Raga Sì Sono carte Vecchie Raga Né più Né meno Ne avrò Anche Nelle doppie Raga Vabbè Dettagli Ve le faccio Comunque Vedere Lo stesso Ma Sono carte Vecchie Raga Un momento Troverò Charizard Charizard Lucente Sicuramente Troverò Charizard Lucente E vabbè Non fa niente Ragazzi Vi assorbite Queste Anche le carte Vecchie Non è che Vi assorbite Anche le carte Vecchie Io mi ricordo Che questa Io ce l'avevo Già Adesso Cerco La E Sicuramente Troverò Tutte le carte Di questa Espansione Qua Ma Non è un problema Per voi Cioè A me piacerebbe Farvela vedere La vecchia Espansione Ve le farò Solo vedere Voi Ve le Guarderò Assorbite Ma Cosa posso Fare D'altro Sono sicuro Che io L'avevo Già Aperto Che io Quel Tappeto L'avevo Già Aperto Io Avevo Già Quel Tappeto E avevo Già Quella Spilletta Quello Che Porca Miseria È un Casino Memoria Ragazzi Mi inganna Sempre Vabbè Bello Che posso Farla Verne Due È Bello Ma Adesso Ragazzi Se trovo Perché io mi ricordo Un Il Charizard Oddio Il Charizard Quello Il Charizard Lucente Raga Il Charizard Lucente Vediamo Se Tiro Foglio Il Charizard Lucente Trovo Il Charizard Lucente Ragazzi Vuol Dire Chi Vi Assorbite Quello Io Spero Che Non Trovo Il Charizard Lucente Queste Carte Non le Ho Per Davvero Perché Mi Ammazzo Mi Ammazzo Mi Che Povero Papà Poi Devo Fare Il Lavoro Delle Dotte Che Già Stiamo Facendo Un pochino Per volta Perché È Molto Stanco Quando Torna Che Io Adesso Troverò Questo Adesso Ho Trovato Un'altra Carta Ma Non Me La Ricordo Questa È Miu Ma Non Mi Ricordo Ragazzi Delle Altre Molto Bassa Voce Perché È L'Uni Quaranta Nero È L'Una E Qualcosa Adesso Dovrebbe Uscire Allora Capito Il Charizard Lucente Allora Io Mi Ricorderei Di Questa Spanzione Che Ho Già Perta Però A me Non Mi Viene In Mente Nulla Perché Boh Magari Non c'è Magari Sbaglio Io Magari Ce l'ho Magari Ce l'ho Questo Non te Posso mai Dire Però Insomma Io Ho le doppie Comunque Devo Vedermi Io Con Le doppie Mio Mio Pappà E Io Con Le doppie Allora Io L'ho Detto Però Non so Papà Che per il Momento Le lascio Un ottimo Da parte Deve Tirare Fuori Il Charizard Lucente Se Tira fuori Il Charizard Lucente Vuol dire Che io La memoria Ce l'ho Io Non ho La memoria Cioè Ho La memoria Come Il Bradipo Cioè Non me la Scordo Però Io Posso Dire Me lo Ricordo Per Questa Carta Allora Si No No Questa La Carta Lucente La Carta Lucente Per ora Non è Uscita Fuori Quindi Vuol dire Che Non ho Queste Carte No Cioè Mi ricordo Che io Non ho Queste Carte Raga Vediamo Un altro Con Questa Cosa Ma Io Non me Le Ricordo Scusate Quanti Carte Io Raga Ne ho Tante Come Faccio A Ricordarmi Una Carta Fantastica Non posso Ricordarmi Ho De 140 Mila Carte Ragazzi Mi Faccio Ricordarmi Tantissime Carte La Mamma Non lo Sa Che Posso Dire Ok Io L'ho Aperte Ma Non c'è Niente Comunque Tutti Del Pokemon Go Ragazzi Tra L'altro Questo Qui Mi Sa Che Il Pokemon Go Non so Non so Perché Io Mi Stavo Mi Sto Aspettando Anche Una Carte Che Dovrei Ricordarmi Cioè Quella Lucente Lucente Ho Sbagliato Spansione O Non Lo So Volevo Lavorare Un po' Però Prima Di andare A letto Magari Non ce l'ho Occhi Se mi Frega Tanto Le carte Doppie Comunque Me le Becco Io Perché Io Non Voglio Assolutamente Le carte Sono Importanti Ok Mi Cintori Comunque Dormono Quindi Magari Sono Carte Un po' Diverse Poi Dove Vediamo Aspetta Ho Fatto Vedere Questo Ciao Ciao